Cosa succederà nelle puntate del Paradiso delle Signore dal 19 al 23 dicembre 2022? Scopriamolo assieme. Avevamo lasciato la famiglia Colombo nell'occhio del ciclone. Ebbene, le anticipazioni ci svelano che Ezio comunica a Vittorio che sarà Gloria la finanziatrice del suo progetto e anche Veronica dovrà accettare questa decisione. Ma nel frattempo, l'amoro evita di riferire ad Armando del bacio avvenuto tra lei ed Ezio. Ovviamente Gloria ed Ezio dovranno confrontarsi in merito al bacio e prenderanno delle decisioni riguardo all'evoluzione del loro rapporto. Al contempo Gemma si confida con Roberto dei suoi problemi in famiglia. Come se non bastasse, Don Saverio rivela a Gemma che Ezio sarebbe già potuto tornare a casa. La Venere non ne era al corrente perché la madre non le ha detto nulla. Sarà proprio Gemma a spingere Veronica a essere meno dura con Colombo e la madre decide di concedere al compagno una piccola apertura. E proprio dopo questo confronto, Veronica accetta che Ezio si metta a società con Gloria. Al contempo, gli chiede di tornare a casa. Intanto, Gloria apprende che tra i due è tornato il sereno e Gloria è costretta di nuovo a farsi da parte. La partenza di Marco e Stefania non è stata però ancora digerita. In particolare, a soffrirne di più per la partenza della Colombo a Irene, e questo desta la preoccupazione di Alfredo, che verrà incoraggiato da Clara a stare vicino alla Cipriani. Alla luce di un bel gesto di Alfredo nei confronti di Irene, la Cipriani inizia a vederlo in un'ottica diversa. Intanto, un'altra sorpresa l'aspetta a casa. Mentre si dà da fare per disfare il letto di Stefania rimasto in tonso dal giorno della sua partenza Irene trova, sotto il cuscino, una lettera dell'amica. Dentro alla stessa c'è un biglietto aereo per l'America a suo nome. Grazie all'emozione della sera prima, Irene pare pronta a superare la mancanza di Stefania. Forse, addirittura, potrebbe cercare una nuova coinquilina. Vito si fa avanti con Maria e le chiede di uscire. All'appuntamento, però, al posto della sarta, trova Armando. Questi è sempre più scettico nei confronti di Lamantia e ha cominciato a indagare sul suo passato. A Matilde non sfugge che Vittorio non ha più la fede al dito e Adelaide comincia a interrogarla sul rapporto tra lei e Conti. Nel frattempo, Vittorio pensa di ingaggiare una star del cinema come testimonial della nuova campagna. E Vittorio chiederà proprio a Matilde di accompagnarlo per incontrare la Martinelli. Mentre le propongono di posare per la nuova campagna promozionale del Paradiso, è evidente che la loro complicità cresce sempre di più. Non solo sul piano professionale. La Martinelli, però, non riuscirà a partecipare al servizio fotografico in occasione della nuova campagna promozionale del grande magazzino. Quando Vittorio viene a saperlo, propone alla Frigerio di posare per il manifesto pubblicitario. Lei declina, ma dopo le proposte incessanti di Vittorio, accetterà. Pare che questa collaborazione porti a una svolta inaspettata. Che scocchi la scintilla tra i due? Marcello è, invece, convinto che riconquisterà Ludovica. Così, approfittando dell'assenza di Ferdinando, riesce finalmente a confrontarsi con Ludovica. Le confessa di non averla mai dimenticata, ma riceve una coccente delusione, che però non fa arrendere il ragazzo. Deciso a riconquistare Ludovica, Marcello sta organizzando un grande affare per la sua scalata sociale. Per farlo chiede una mano ad Adelaide. La Gramini si tradisce con una battuta, grazie alla quale Ferdinando intuisce che lei cieli qualcosa che riguarda Flavia. Inoltre, incide anche sull'inizio della sua storia d'amore con Ludovica. Che questo possa minare al rapporto tra i due? Per non perdere le prossime anticipazioni iscrivetevi al canale.